Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Durante la conferenza di presentazione della nuova stagione di X-Factor, Giorgia ha involontariamente rivelato se il marito Emanuel Law è stato riconfermato ad amici. La cantante ha confermato che il marito è stato confermato da Maria De Filippi durante la conferenza stampa della nuova stagione di X-Factor. La gaffe di Giorgia ha fatto gioire i fan, poiché ha confermato la presenza di Emanuel Law nel talent show. Il giorno in cui si registra la puntata di Amici è il giovedì, che poi va in onda la domenica successiva. Quindi Emanuel Law è stato confermato per la nuova stagione. Al momento, i professori confermati per Amici sono Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi. Raimondo Todaro ha abbandonato il talent show, mentre Anna Pettinelli ed Emanuel Law sono ancora incerti. Tuttavia, Giorgia ha svelato che il marito è stato riconfermato. Resta da risolvere il nodo riguardante Anna Pettinelli e il sostituto di Raimondo Todaro. La conferma di Emanuel Law ha porto gioia tra i fan del programma. La nuova stagione di Amici tornerà su Canale 5 il 22 settembre.